Dacia affronta il mercato con sempre più audacia. Il marchio e i suoi vette del paese, siamo ormai nella top 10 e la crescita continua. Un successo meritato grazie a qualità, servizio, comunicazione e last but not least tanta, tanta convenienza. La qualità non è da discutere, basti pensare che Dacia e Mercedes hanno lo stesso cuore, il 1300 TCE per esempio. Che alleanza e che battiti! Per non parlare del servizio, capillare è dedicato visto che tutti i nostri concessionari Renault sono anche Dacia, nella vendita come nel post vendita. Ovunque e sempre, con lo stesso spirito qualitativo per soddisfare il cliente. La comunicazione è semplice, il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato, siamo i soli a poterlo dire. Per questo non facciamo sconti, non è che siamo troppo convenienti. Ma il successo si raggiunge in squadra, una squadra completa fatta di numeri uno, come la nostra Sandero e il nostro Doster che vedete alle mie spalle. Oggi Doster ci stupisce di nuovo, proponendo un nuovo motore ancora più audace, frutto della tecnologia dell'alleanza, il nuovo tre cilindri turbo-benzina da 100 cavalli. Stesso motore della nuovissima Clio, la vettura più tecnologica in questo momento su Renault, che ha audacia. Waste gate a comando elettrico, collettori di scarico parzialmente integrato alla testata, distribuzione a singola fasatura, variabile idraulica in fase di aspirazione, poor spray coating. Non è una lingua straniera, è qualità, tanta qualità che facciamo pagare ad un prezzo irrisorio. Il cliente è re per Dacia, riduzione del 15% delle emissioni di CO2 e del consumo rispetto al motore che sostituisce. La borsa rimane piena e l'ambiente è felice. E per chi vuole risparmiare arriva il GPL su questo turbo, per assicurare un turbo risparmio all'insegna dell'emozione. Dacia Duster con il nuovo 1000 TCE, più audacia che mai. Dacia Duster con il nuovo 1000 TCE.